Dopo la Palestina rimaniamo in Medio Oriente insieme a Davide per parlare di quella che è la situazione in Kurdistan e in Siria. In Siria si sta combattendo una guerra ferocissima, una guerra atroce, il regime siriano è uno dei più pesanti oppressivi del mondo. Per quanto riguarda le opposizioni e le rivoluzioni in atto, come citavi in uno dei tuoi articoli, attualmente sono due. Una portata avanti dal fronte islamico che punta a imporre l'islam in tutti quei territori e una invece che è la rivoluzione confederale, che è la rivoluzione reale a cui tu anche hai partecipato e che è una rivoluzione che effettivamente dal basso punta a una condivisione del potere, ad una produzione di collettività che punta ogni giorno dal basso a creare un luogo dove ci sia libertà di credo, libertà di stile di vita. È una rivoluzione che fa paura alle grandi potenze mondiali perché l'esperimento che si sta portando avanti, rivoluzionario e incredibile, a Cobane e in Rojava, è un esperimento politico importantissimo che fa molta paura e che non piace alle amministrazioni dei grandi potenti del mondo e questo perché si vede come effettivamente sia possibile costruire dal basso una reale condivisione del potere ed una reale democrazia radicale. Tu hai partecipato come combattente proprio insieme all'unità di difesa del popolo alla guerra in Kurdistan e quindi insieme a te volevamo capire che cosa sta succedendo adesso in quei territori e come viene portata avanti la resistenza e la lotta allo Stato Islamico da parte dei combattenti attualmente IPG e IPJ, unità di difesa del popolo e unità di difesa delle donne. Prima di lasciarti la parola però io invito il pubblico a fare un applauso sia al nostro compagno Karim che sta combattendo attualmente in Kurdistan e anche a Davide e a tutti coloro che stanno combattendo attualmente contro lo Stato Islamico. Grazie molto a tutti voi per essere venuti questa sera, in effetti sono anche aumentati gli italiani che hanno preso le armi contro l'ISIS in Siria in questi ultimi mesi e questo è un fatto credo molto positivo visto che l'afflusso di internazionali in quello scenario a dare manforte alla rivoluzione confederale che Francesca ha già presentato e sicuramente qualcosa di doveroso all'interno di uno scenario come quello siriano dove comunque una rivoluzione iniziale si è evoluta in una guerra civile terribile ma in cui quasi inspiegabilmente per certi versi è riuscito a sorgere questo fiore nel deserto come qualcuno l'ha chiamato, questa esperienza davvero per certi versi così straniera nel mondo contemporaneo. Tra l'altro io essendo che mi sono speso negli anni in molte occasioni in mobilitazioni in favore della popolazione palestinese dopo questa esperienza con le IEPG anche nella mia attività di informazione mi trovo spesso in delle situazioni paradossali o se non paradossali comunque di discussione accesa anche con amici palestinesi o con persone di lingua e di cultura araba visto che esiste anche una leggenda metropolitana molto popolare in Medio Oriente e che il Kurdistan o un eventuale stato kurdo, un eventuale realtà kurda rappresenterebbe una nuova Israele all'interno del Medio Oriente. Questa è una menzogna se non altro per il fatto che appunto Israele nasce come progetto di colonizzazione, come colonizzazione di fatto, un movimento politico che come dire aveva la colonizzazione fin dall'inizio come il suo obiettivo mentre invece il popolo kurdo appunto è una popolazione che è stata colonizzata, è stata deportata, è stata oggetto di una, come dire, anche trasformazione degli stessi territori su cui ha abitato per impedirne in qualche modo la coagulazione politica e anche di cui si cerca, si continua a cercare di distruggere l'identità, la tradizione e la cultura. Ma in realtà, al di là del fatto che sicuramente degli aspetti più legati strettamente alla questione kurda, credo verranno fuori molto chiaramente con il discorso legato al muro che affronteremo dopo, è importante secondo me notare come in questo specifico momento storico la situazione soggettiva delle regioni kurde sia proprio agli antipodi rispetto a quella che riscriveva Michele riguardo alla Palestina, nel senso che nella Siria del Nord, per esempio, una popolazione kurda che comunque non è sicuramente superiore al 10% di quella siriana, è riuscita a esprimere una soggettività politica talmente forte, talmente avanzata non soltanto dal punto di vista organizzativo ma anche e forse soprattutto dal punto di vista del pensiero, della prospettiva, della capacità di elaborazione teorica e politica da essere riuscita partendo da una situazione assolutamente di svantaggio perché attaccata sia dalla Turchia sia appunto dai movimenti islamisti e in particolare dal più temibile di essi c'è lo Stato Islamico a diventare poi l'attore fondamentale oggi della guerra civile e di fatto comunque le forze siriane democratiche create dalle YPG e dalle YPG con una grande alleanza assieme a battaglioni arabi, assiri, turcomanni, ceceni nella Siria del Nord e oggi il più grande esercito rivoluzionario popolare della Siria, la Confederazione Democratica della Siria del Nord è di fatto l'unica realtà che come esito di sei anni di massacro è effettivamente uno sbocco rivoluzionario e politicamente come dire concreto a questo bagno di sangue. Ora io credo che al di là, ripeto, della questione kurda che deve essere affrontata e credo debba essere rivendicata come tale è proprio l'aspetto politico che emerge da questa vicenda nel contesto siriano in particolare attuale ma non solo siriano che debba essere valorizzata e che debba risvegliare il nostro interesse in una prospettiva che non riguarda soltanto la Siria ma riguarda proprio quello che sta accadendo nel mondo di oggi e che in particolare sta accadendo nel Medio Oriente. In questo momento è in corso, credo lo sappiate tutti, questa grande offensiva di proporzioni di significato storico per la liberazione della città di Iraq, un'offensiva che è sotto il comando unificato di comandanti donne di diverse lingue e di diverse culture che rivendicano appunto anche con la collaborazione per esempio di donne che vengono dall'Iraq, dalla regione di Shingal a partecipare ai combattimenti, il compito di liberare le donne in particolare della città di Iraq che è diventata sotto il tallone dell'ISIS il simbolo dell'oppressione femminile in Medio Oriente. Ebbene, questa offensiva oggi è per certi versi seguita con minore attenzione rispetto a quello che fu la battaglia di Cobane, quando invece si trattava di resistere e di non capitolare due anni e mezzo fa. Oggi che dopo due anni di sforzi, di combattimenti che hanno lasciato, e questo ci tengo a sottolinearlo perché è la cosa più importante, hanno lasciato letteralmente migliaia di martiri sul terreno, migliaia di ragazze e ragazzi giovanissimi o hanno lasciato migliaia di feriti e di mutilati, persone che hanno combattuto anche internazionali tra l'altro e molti che venivano anche fuori dalla Siria e da altri paesi del Medio Oriente e si è arrivati appunto alla distruzione di fatto pezzo per pezzo dello Stato Islamico nell'interesse di tutto il mondo chiaramente, in particolare nell'interesse delle nostre città qui in Europa perché? Perché si è riuscito a costruire un progetto politico che è andato al di là delle YPG oggi nelle forze siriane democratiche il 65% dei combattenti sono di lingua araba e questo è un fatto che i nostri stessi giornalisti tendono sempre a minimizzare e chi polemizza contro la rivoluzione confederale non vuole vedere questo fatto e soprattutto i sostenitori in Siria e fuori dalla Siria della famigerata opposizione siriana cosiddetta che in realtà altro non è che un movimento islamista a tutti gli effetti composto da unità battaglioni di combattimento che si sono macchiati di crimini orrendi nella provincia di Aleppo e in altre province in questi anni ebbene loro non vogliono ammettere questa realtà per loro inaccettabile che migliaia e migliaia di combattenti arabi di giovani che hanno preso le armi contro il regime di Assad nel corso di questi anni e che vogliono comunque un cambiamento all'interno della Siria abbiano trovato in una realtà che avevano sempre considerato come diversa altra, straniera, anche inferiore come quella kurda di fatto non soltanto un alleato ma anche una guida perché comunque è inutile negare che le YPG siano l'avanguardia politica oltre che militare di queste esperienze e questo è possibile perché nella mentalità non dei kurdi perché esistono movimenti kurdi nazionalisti, regressivi come quelli al potere nel Kurdistan iracheno così come esistono salafiti kurdi che combattono nelle file dell'ISIS o nelle file degli altri islamisti in Siria ma nelle fila della sinistra kurda nelle file di quello che è in Iraq e il PKK di quello che è in Siria e il PD è nata una prospettiva che è riuscita a fare un ragionamento sul mondo di oggi ancora un ragionamento sulla storia del Medio Oriente che parte proprio da quella come dire spartizione dell'impero ottomano con gli accordi di Sykes-Picot che di fatto era soltanto di un anno non a caso antecedente alla dichiarazione di Belfour quindi strettamente legata anche poi a quello che sarebbe avvenuto in Palestina è bene un ragionamento che ha portato a proporre una soluzione piuttosto che la creazione di nuove crisi e piuttosto che la creazione di nuovi conflitti settari o conflitti nazionalistici all'interno del Medio Oriente questa è la ragione da un lato del suo successo dall'altro naturalmente anche delle sue difficoltà perché da un lato tutti gli stati della regione sono ostili una simile prospettiva anche perché è basata su un autogoverno che in realtà è molto nelle corde della cultura mediorientale quindi è un appello molto pericoloso per le popolazioni di quei paesi e perché comunque mette in discussione gli equilibri tradizionali della regione che è più ricca delle risorse energetiche che fanno funzionare l'intera economia mondiale rispetto a qualsiasi altra piena di nemici anche perché proprio il discorso di superare l'identità nazionalista in senso tradizionale è l'obiettivo stesso dello Stato-Nazione provare a ripensare anche la possibilità che le diverse popolazioni, le diverse comunità hanno di confederarsi, di collaborare di stipare dei patti politici istituzionali che non necessariamente ricalchino quelle passate che è chiaramente indigesta per tutte quelle realtà politiche del Medio Oriente non soltanto di destra ma anche di sinistra che sono in realtà legate a degli scenari che o non esistono più o che anche quando esistevano di fatto non hanno prodotto risultati quindi io credo che sia un'esperienza questo è il conflitto che è in corso in questo momento nella Siria del Nord la liberazione speriamo il più presto possibile di Racca e quello che sarà poi la rivoluzione che dovrà avvenire nella città di Racca che non sarà un passaggio sicuramente meno difficile della sua liberazione militare è qualcosa che deve essere seguito per quello che è cioè la fase, qui chiudo, del 2017 della liberazione di Racca non è più la fase della resistenza di Kobane troppo è cambiato all'interno della Siria troppo è cambiato all'interno della stessa dinamica politica di questo progetto che si è arricchito, si è ingrandito si è rafforzato così tanto da trascendere completamente quello che era la resistenza kurda di Kobane per diventare invece appunto la liberazione confederale di una città maggioranza araba simbolo della guerra civile quindi credo che anche in termini di solidarietà da un lato è importantissimo secondo me che sempre più persone dall'Europa vadano nella Siria del Nord e non mi riferisco alla scelta di combattere ma al vedere, al conoscere, al comprendere al cercare di dialogare con queste popolazioni non è meno importante chiaramente andare per esempio in Palestina o in altri luoghi ma è importante questo sicuramente ma dall'altro lato anche qui credo che l'urgenza più importante sia affrontare davvero quello che è l'esperienza confederale come elemento del nostro tempo che è all'altezza del nostro tempo e che ci sollecita magari anche ponendoci delle grosse contraddizioni quella rispetto a una certa cultura araba nazionalista o rispetto appunto alle frizioni per vari motivi che ci possono essere con organizzazioni palestinesi è solo un esempio ma non è l'unico perché in realtà c'è anche per esempio come una rivoluzione all'altezza del 2017 si deve rapportare da un punto di vista militare da un punto di vista politico con il contesto istituzionale già esistente nel mondo e quindi anche le alleanze che poi si sviluppano dove vanno, dove vanno a parare a cosa possono portare eccetera sono tutti argomenti di dibattito che ancora in Italia in realtà sono lungi dall'essere posti con la dovuta come dire urgenza grazie a tutti grazie a tutti